Il teatro di tradizione Alfonso Rendano di Cosenza per il settimo anno consecutivo ospiterà la rassegna L'altro teatro. Saranno 15 gli spettacoli per tutti i gusti e spazieranno dalla commedia brillante alla musica, alla satira e alle rappresentazioni impegnate o classiche. Un modo molto efficace per rendere il teatro fruibile a tutti. L'offerta come gli altri anni e dato il successo degli altri anni è un'offerta molto variegata destinata a un pubblico soprattutto di famiglie. Bisogna fare un'opera di riavvicinamento al teatro. Grazie a Dio abbiamo una città che è molto legata alla tradizione sia del teatro insensolato sia del Rendano. Io credo che poi le amministrazioni comunali ovviamente devono andare incontro a gusti delle persone e il successo di Botteghino e Pubblico dà il risultato del lavoro fatto. La rassegna L'altro teatro nel corso degli anni è andata via via crescendo sia per qualità degli spettacoli che per numero di spettatori confermando sempre di più l'efficacia della sinergia tra pubblico e privato. Io ho sempre accusato le precedenti amministrazioni di avere fatto del Rendano una roccaforte staccata dalla realtà della città. Noi invece insieme all'amministrazione comunale e alla Regione Calabria abbiamo offerto in questi anni un cartellone per tutti e grazie anche agli abbonamenti noi abbiamo visto del pubblico che era abituato a vedere solo la cammedia napoletana o lo spettacolo leggero ad apprezzare poi Daniel Pennac oppure Alessandro Preziosi o il teatro impegnato. Da tre anni la rassegna è realizzata anche grazie al sostegno della Regione Calabria. Questa rassegna è vincitrice di un bando triennale e voglio sottolineare che la triennalità consente di programmare gli eventi con largo anticipo avendo la certezza delle somme e quindi di ingaggiare gli artisti, i migliori artisti, nei tempi che il loro carnet richiede. Il fatto di aver voluto pontare l'associazione e l'altro teatro anche su una produzione propria è una novità che si aggiunge quest'anno e che è emblematica della maturazione che questa associazione ha raggiunto in ambito teatrale. Il primo appuntamento è fissato per sabato 30 novembre con Alessandro Siani in Felicità Tour.